La prima fase è l'organizzazione. Allora, a cosa risponde la fase dell'organizzazione? Il problema dell'organizzazione è che gli studenti non sono organizzati, ma non soltanto nella gestione del tempo, e l'organizzazione ti aiuta anche in quello, ma soprattutto nel... Vi è mai capitato di studiare argomenti che poi dopo non servivano alla cattedra? Sì, studi parti inutili. Questa è la prima perdita di tempo dello studente. Cioè, se tu non fai l'organizzazione, butti nel cestino... Questo con un po' di fantasia è un cestino. Ho detto cestino e non cesso perché sa... Opla, l'ho detta. Butti nel cestino tutta una serie di tempo. E poi ci lamentiamo che non abbiamo tempo. No, devi prima selezionare gli argomenti di studio, facendo quella che si chiama una classifica delle domande. Cioè, devi proprio andare a cercare quelle che sono le domande più chieste. Eh, ma a me chiedono tutto all'esame. Non è vero che chiedono tutto, hai l'impressione che chiedono tutto. Ma a me apre il libro a caso il professore. Vero? Ma se tu prepari gli esami in sette giorni, come ti diciamo di fare, o massimo in quattordici giorni, perché il tempo è da sette a quattordici, hai la possibilità, anche se chiedi a caso, di ritare l'esame in brevissimo tempo. Basta farlo, però se poi dopo dite, no, vabbè, gli esami li do in 40 giorni, o in 27 giorni, ogni volta che va male l'esame ci vuole un mese. Invece così ci vuole una settimana, o anche tre giorni. Li puoi dare anche in tre giorni se il professore chiede a caso. Il guaio, porcaccia di quella miseria, è che voi sapete per cosa studiate. Lo so, perché lo facevo anch'io. Per quali esami studiate? Per gli esami belli dove il professore è bravo, oppure studiati per gli esami difficili dove il professore è stronzo e vi fa paura. Per i difficili? Tutti? E quello è il guaio. Perché voi, più il professore vi spaventa, più il professore apre il libro a caso, più il professore è stronzo, e all'esame ti tira il libretto in faccia quando ti boccia. Non è che ti boccia soltanto, ti tira il libretto in faccia e ti umilia. Dice, torni a casa lei. Ma si è vestito così? Ma come si è vestito? Ma le sembra questo il modo di parlare? Ma se ne vada. Più ti offende sul personale e più vi caccate sotto. Questo è il problema, ragazzi. Allora voi iniziate a studiare di meno per questi esami e per questi professori. Iniziate a studiare di più per quello che vi piace. Iniziate ad approfondire. Iniziate a studiare anche dopo l'esame. Proviamo a studiare dopo l'esame. È una figata. Prima do l'esame e poi studio. Allo stesso impatto didattico, ragazzi. Fidatevi. Non è che l'esame ti... ti dà le informazioni. È sempre quello. Solo che l'altra volta l'hai scelto tu. E non hai bisogno del professore che ti dice devi studiare perché te l'ho detto... Non hai bisogno della paura per apprendere. Ma perché? Abbiamo bisogno della paura per apprendere. Perché ci sono i bambini in Africa che vorrebbero leggere, imparare e noi invece quando dobbiamo imparare preferiamo fare tutt'altro. Lo dico io perché abbiamo... Dopo le domande. Perché abbiamo un problema con... Allora, in questi giorni... Faccio una piccola digressione. In questi giorni molto spesso v'ho dato in testa. V'ho dato in testa, v'ho martellato. Però quasi sempre mi guardavate felici. Mi guardavate soddisfatti. Perché? Perché la differenza, ragazzi, è che quando vi do in testa io lo faccio per voi. Non lo faccio per me. A me che me ne frega. Cioè, onestamente, ragazzi, a me che me ne frega se voi date gli esami o no. Me ne frega per voi. Noi invece abbiamo avuto tutte persone nella nostra vita che ci hanno dato in testa per loro. Perché dovevamo essere come volevano loro. Non come vogliamo noi. e quindi siamo diventati completamente assenti quando si tratta di seguire delle indicazioni. No, 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 non voglio fare niente. Lascia stare. È per quello che succede. Ed è per quello che noi ascoltiamo quello che ci terrorizza di più. Gli altri, magari quelli bravi, non li ascoltiamo. E non facciamo la fase di organizzazione come vi ho spiegato. Dopo che abbiamo organizzato il materiale di studio e quindi abbiamo selezionato quelli che sono gli argomenti più richiesti poi è lunga la fase di organizzazione ora ve l'ho sintetizzata. Dopo che abbiamo selezionato gli argomenti più importanti di studio e che quindi conosciamo più o meno le domande più chieste all'esame iniziamo a comprendere. E c'è la seconda fase. Ora, qual è il problema della fase di comprensione? è che prima perdiamo tempo a studiare parti inutili ma poi perdiamo tempo a rileggere. Rileggere, rileggere, risottolineare, evidenzionare. Evidenzionare. Eh, le rivenzionite le evidenzionate. Sì, perché diventa quasi una cosa patologica l'evidenziatore, ragazzi, perché tu proprio ti esauri, no, 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 non posso studiare senza gli evidenziatori. Conoscete qualcuno così? Sì, io. Lo ero anch'io, ragazzi, nemmeno io studiavo quell'evidenziatore. E ve lo dicevo prima, non c'è niente di male. basta che noi capiamo la strategia. Perché noi evidenziamo? Perché vogliamo ricordare? Ed è lì che dobbiamo cominciare a fare quelli che si chiamano gli schemi a cascata. Lo schema a cascata è uno schema che non nasce per sintetizzare né per riassumere, ma nasce per ri, no, 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 non è solo comprendere, rielaborare. E dare una risposta. A questo serve lo schema. Ha una gerarchia che funziona in questo modo, in realtà questo sarebbe il titolo. Quindi ci sarebbe argomento. Argomento. E ha una gerarchia che funziona così, quindi a cascata. E qui ci sono le altre cose. Ora anche questa, un pochino lunghetta da spiegare, ma di base dovete capire il perché dello schema. Il perché dello schema, ragazzi, è molto semplice. Devo rispondere cioè devo mettere su un foglio che è più o meno strutturato così, devo mettere su un foglio quella che è la risposta perfetta che darei se il professore mi facesse questa domanda. Ma poi dopo non me la ricordo. Aspetta un attimo, in modo da insegno. Aspetta un attimo. Noi perdiamo tempo in fase di lettura e comprensione perché vogliamo ricordare. È la fase dopo. È la fase dopo. Tranquillo. L'obiettivo della fase di comprensione è leggere e comprendere per poi rielaborare. Ed è lì che evitate di perdere tempo ore, 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 ore a sottolineare o a ripetere oralmente. D'accordo? È quella la partita di tempo. Magari alcuni argomenti li dovete capire, quindi ci vuole un po' di tempo, ma non è un problema. Non è un problema, per quello noi non facciamo corsi generici di apprendimento tipo lettura veloce, queste cose qua, che per carità vanno benissimo, non ho niente contro questi corsi, ma semplicemente non sono stati pensati per studenti universitari. E quindi, per uno che deve leggere dei libri, beh sì, leggine più veloce. Ma per uno studente non è quello il fattore critico, non è quanto veloce leggi, perché fai semplicemente più veloce la fase di comprensione. Poi puoi pure leggere, abbiamo pubblicato dei video gratuiti sulla lettura veloce, stanno su YouTube, guardateveli, puoi pure leggere più velocemente, ma non è quello il punto. Il punto è, se dopo la fase di comprensione hai delle informazioni cariche di contenuto, hai delle risposte perfezionali dal professore, ma non me ne ricordo, aspetta un attimo, mo' te le spiego, mo' te le spiego, mo' ti spiego come memorizzare, è la fase dopo. Quindi, posto che noi abbiamo eliminato l'altra perdita di tempo, che è quella che facciamo quando dobbiamo sottolineare, abbiamo un'altra grande perdita di tempo che vi accennavo già prima. Grazie.